Yo, what's up skaters? Sono Vincent e vi benvenuti in questo nuovo video. Se sei nuovo benvenuto nel canale se ti va, iscriviti, perché oggi ti insegno a scegliere la tavola, se ancora non sai farlo ovviamente. Ok, per essere molto spiccio, sostanzialmente prima ovviamente devi sapere come è fatta una tavola. Spesso legno d'acero, spesso canadese, poi ovviamente ormai si diversifica totalmente tanto il mondo della costruzione che ci sono tantissimi tipi di legni, tecnologie, non entrerò in questi dettagli. I parti fondamentali sono il tail, la parte dietro con cui si poppa sostanzialmente, e il nose, la parte davanti. Sarà quella che useremo per andare a controllare la nostra tavola in aria. Detto questo, cosa c'è di fondamentale e come si sceglie una tavola in base alla larghezza, che si misura in pollici? Parte dalla 7,75 fino ad arrivare alla 8,5, poi 8,6, poi 8,7, insomma, però misure che sono veramente grandi, quindi non andremo a trattarle. Per iniziare di norma io consiglio un range tra una 8 e una 8,25, questo a seconda del vostro piede. Quando si inizia è ciò che più influisce sulla scelta della tavola. Se avete un piede molto pronunciato andrete su una tavola leggermente più grande, se avete un piede un po' più piccolino invece vi basterà una tavola un po' più piccola. E qual è il pro di una tavola piccola? Il pro di una tavola piccola è che comunque è molto più agile, è molto più manovrabile. Riuscite a controllarla meglio, far girare più velocemente, più facilmente la tavola, però è meno stabile. Una tavola troppo grande è il contrario, quindi molto stabile ma più difficile da controllare. Ci vuole molto più forza, insomma. Quindi per iniziare vi consiglio una via di mezzo, come in tutto. Quindi se avete un 45 e state iniziando magari una 8,25, magari anche una 8,3,75 va bene. Se avete un 41, una 8, una 8,125. Comunque sia sappiate che in questo range più o meno vanno tutte bene. Per farvi un esempio concreto, pratico, io ho un 44,5 e ho sempre schietto con una 8,5. Da un anno, un anno e mezzo a questa parte, schietto con una 8,25 e mi trovo molto bene. Ho proprio fatto questa scelta per riuscire a gestire un po' meglio la tavola. Sicuramente poi col tempo imparerete a capire qual è la misura che fa per voi. All'inizio sono contento di potervi dare una mano, se serve. Altro fattore fondamentale per la scelta della tavola è il concave. Ovvero, come dice la parola stessa, la conca che la tavola fa. E questo sostanzialmente influisce sulla reattività della tavola. Con un concave più alto faremo molta meno fatica a far girare la tavola, dare un flip ad esempio. Però avremo magari un po' meno di stabilità. Con un concave più basso magari un po' più di stabilità. Ma faremo più fatica a fare un flip, o meglio dovremmo metterci più forza. Come ultima cosa vi parlo dello shape. Lo shape è la forma della tavola. In questo caso si tratta di una pop cycle, una tavola da skateboard, tra virgolette, classica. E che quindi ha questa forma qua. Quindi tail e il nose, che sono dei semicerchi, dei cerchi, insomma, curvi. Quando invece si parla di old school o shaped, il tail e il nose hanno forme più particolari, spesso squadrate. Consigli che ho da darvi sui brand da scegliere come prima? Ce ne sono troppi ragazzi, veramente troppi. Non mi sento di consigliarvene uno in particolare. Perché c'è una vasta gamma, una meriade di tavole, di brand fichissimi. Vi posso fare qualche nome, ma veramente ce ne sono tantissimi. Queste sono a Almost, Enjoy, Baker, Crooked, Magenta, Polar. Se volete andare sul chip, Jart. Più sto qui, più ve ne dico. Quello che posso consigliarvi invece è di acquistare da Downtown, che è il sito che mi sponsorizza, che mi aiuta, con il quale collaboro. In modo tale da aiutarmi, aiutare la scena italiana e ottenere lo sconto del 10% su tutto il catalogo. Quindi su qualsiasi cosa vogliate. Il codice si chiama PUSHING10 e vi lascio il link in descrizione per accedere al sito. Spero che questo video vi sia stato utile, spero che vi sia piaciuto e che abbiate imparato come scegliere una tavola. E nulla guys, ci vediamo al prossimo video. Peace. Ho rifatto in realtà questi mini tutorial, consigli. Sto preparando anche quella sui track, quella sulle ruote, quella sui bearings, kit di montaggio, pad, grip. Vedrete. Keep pushing guys! Peace! Peace!